Tanti di voi si sono domandati certamente tantissime volte che cos'è il Capodanno Cinese, ma poi per mancanza di tempo o di abbastanza curiosità non è andato proprio nello specifico a vedere. Oggi vediamo in brevemente che cos'è. Il Capodanno Cinese è una data in continuo movimento, almeno sul calendario a cui noi siamo abituati. La data può variare lungo l'arco di un mese. Nel 1966 si era festeggiato Capodanno il 21 gennaio, nel 1985 e il 20 febbraio. I motivi dietro alle diverse date sono legati ai vari modi in cui si è misurato il tempo nella tradizione cinese. In particolare stiamo parlando di tre calendari, quello lunare, quello solare e quello lunisolare. Il calendario lunare si basa sulla misura di un mese, è calcolato come il tempo che la luna impiega per compiere un giro attorno alla Terra, circa 29 giorni e mezzo. Quello lunisolare è quando la Terra si trova fra il Sole e la Terra formando una linea retta fra i tre. Inizia il nuovo mese. Quindi il Capodanno cinese è per loro un nuovo anno, un momento giusto per iniziare anche dei nuovi amori. Secondo la tradizione cinese, la primavera che arriva con il nuovo anno è simbolo di nascita. Quest'idea è un'osservazione agricola riferita alla stagione della semina. In termini personali è un buon momento per prendere decisioni e iniziative e anche per aprire nuove attività. Il Capodanno cinese, quindi come direbbe Battiato, è la stagione dell'amore. Un momento per dichiararsi, per usare e buttarsi in una nuova avventura sentimentale. Pensate che alcune minoranze etiche nel territorio cinese organizzano ancora oggi delle feste in cui i giovani hanno l'occasione di conoscersi a vicenda. Così prendono vita a nuove relazioni, proprio nel momento più fertile dell'anno.